Andiamo a Messina perché dopo un botta e risposta tra il sindaco De Luca e l'assessore Ruggero Razza è vero e proprio scontro con il primo cittadino, ricordiamolo sospeso, si a tempo che dichiara di essere pronto a presentare una denuncia nei confronti dell'assessore Razza e del governatore Musumeci per epidemia colposa. Lo scontro è totale e sembra essere solo all'inizio. Tra il sindaco di Messina Cateno De Luca e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza volano gli stracci per la gestione dell'epidemia da coronavirus nella città dello stretto. Il nodo è quello dei tracciamenti dei contagi e della gestione dei rifiuti ma va oltre sino alla testa, quella che vuole De Luca, del direttore generale dell'ASPO di Messina Paolo Lapaglia. O lui o io aveva detto nella sua diretta di ieri quando ha annunciato le dimissioni e ha detto di nuovo oggi. E giù una serie di accuse parlando di logica mafiosa all'indirizzo di Musumeci e dello stesso Razza che oggi ha risposto parlando di pressioni in debite sulle autorità istituzionali. Questo è reato, ha detto Razza, se il sindaco Cateno De Luca ritiene che nei suoi confronti il presidente della regione e il sottoscritto abbiano agito con logica mafiosa o che si stia facendo qualcosa contro la legge, vada subito a denunciarci. E la controreplica di De Luca non è tardata ad arrivare. Il sindaco ha dato mandato ai suoi legali di presentare una denuncia nei confronti dell'assessore Ruggero Razza e del presidente Nello Musumeci per la diffusione di pandemia colposa a Messina perché, ha detto nella diretta Facebook di oggi pomeriggio, con i loro comportamenti omissivi e con l'obiettivo di salvaguardare il manager dell'ASPO di Messina hanno causato un aumento esponenziale dei positivi in città. Poi un altro a fondo. Lasceranno la paglia così si faranno fuori De Luca, ha detto il sindaco con una postilla. Da oggi scattano i 20 giorni. Se tu, riferendosi a Razza, pensi di intimidire la città lasciando la paglia lì per uccidere De Luca, ci sarà la sommossa. Nascerà un caso storico. In clima, insomma, è arroventato e lo scontro tra sindaco e regione fa passare in secondo piano anche la sinergia creata oggi in prefettura con ASP e Comune per la gestione dell'emergenza dalla raccolta dei rifiuti dei positivi al contenimento dei contagi. Comune per la gestione dell'emergenza